Vi vogliamo far arrivare un caloroso saluto da parte di Baicon Italia a tutti quanti voi e di buon lavoro e soprattutto un particolare ringraziamento al dottor Carbonaro che è così tanto impegno sta mettendo nell'organizzazione di questi eventi che rendono sempre tantissimo dal punto di vista culturale e di incontro fra tutti quanti noi, i numeri della Sicilia parlano chiaro in tutto questo. Vi ricordiamo che come Baicon Italia nel 2014 saremo presenti in moltissime occasioni, il primo di febbraio per quanto riguarda la vostra zona, la Lort fa partire un'istruzione avanzata alla presenza del dottor Marincola e del professor Giorgio Lombardo. Tra l'altro Marincola vi lascia i saluti al momento non è in Italia e vi mando un caloroso saluto a tutti quanti voi. In febbraio, dall'8 al 16 febbraio ci sarà la settimana di istruzione avanzata presso l'Università di Cartagena, è importantissimo frequentare questo corso una volta nella vita perché rende sicuramente tantissimo dal punto di vista dell'accrescimento professionale, è un corso che ha sempre dato buoni frutti, si fa presso l'Università di Cartagena in Colombia. Il 26 di aprile poi saremo a Taormina, questa volta con un titolo un po' particolare perché Germania incontra Italia che sembra un po' un titolo calcistico, però in effetti è vero, ci sono dei grossi nomi dell'Università Nord Europea ed è un incontro molto importante. Sempre sull'accrescimento professionale vi voglio ricordare che è la quarta edizione del corso di primo livello che si svolge a Catania, l'organizzatore è sempre la Lort, che si svolge a Catania da marzo a giugno e lì si alternano numerosi personaggi della cultura Baicon, quindi avremo il professor Cicconetti dell'Università di Roma, avremo ovviamente il dottor Carbonaro vostro della Sicilia, verrà in Sicilia da voi il dottor Carelli, ci sarà un incontro anche con l'odonto tecnico Paolo Perpetuini. Ovviamente in maggio saremo sempre presenti ad amici di Brugge e poi mano a mano ci sentiamo per gli aggiornamenti sulle altre date e sugli altri eventi. Io concludo questo augurandovi un buon Natale a tutti quanti voi perché siamo vicini alle feste di Natale e grazie per quello che state facendo per Baicon perché Baicon sta crescendo veramente. Lascio la parola al dottor Stefano Carelli e volevo appoggervi un saluto. Grazie Daniera, sarò molto breve, un saluto a tutti i miei cari amici siciliani, da parte di me vi faccio gli auguri per un sereno Natale da trascorrere con i vostri cari e poi per il 2014 un anno ricco di impianti da inserire. Comunque continuate a seguirci anche il 2014 e come ho detto Daniera ci saranno degli incontri molto interessanti e forza e coraggio, continuiamo con questa cosa bella degli impianti Baicon. Un saluto a tutti. Qualsiasi cosa noi siamo sempre a vostra disposizione e come si concludono le mail degli americani non esitate a contattarci. Ciao a tutti!